Buongiorno, buongiorno al lavoro? Oh, sono già fatti appena che facessi di voi, sono già fatti appena che facessi di voi. E chi si va a toccare questa affaire? Ma ho pagato a me un po' più. 100 euro, è vero Pepe? Pepe, è vero Pepe? 100 euro tu? Ah, fai la beneficenza tu? Hai visto a fare pagare Pepe? Ma non ti puoi fare pagare perché Gesù ha soldi Pepe. Salvatore! Oh, il camerino è pure un grande marino. Faccio un po' Non ti puoi fare pagare. Ma non ne puoi fare pagare. Sei arrivato per me, ci sono largato per tutti. Ando, quindi... Qui siamo a te e usate perché vado qui. A posto, a posto, a posto. Vedi? Ecco, sono come a te, ce ne è poca, Pepe. Che si usano con pensieri. tu hai sumato apposta apposta per fare questo lavoro quindi pagalo se non vuoi pagare la sorda pago a piccio quando pp allora va bene allora è giusto buono papi hai capito? hai giusto? hai giusto? hai giusto? hai giusto? hai giusto 5 kg non è che la sardella che hanno detto che era minuta passa l'ora no?